Ave Maria e bentornati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani, precisamente la 34esima puntata del ciclo di Catechesi dedicate al dono della Divina Volontà. Penso che sia quasi inutile ricordare che come sempre ascoltate chi vi parla è Don Leonardo, Maria e Pompei. Siamo nella sezione di questo ciclo di Catechesi dedicata ad una rassegna, ad un'antologia chiamata così, di brani salienti e significativi relativi al dono della Divina Volontà, cioè una serie di testi che ci fanno comprendere alcuni tratti importanti, salienti, caratteristici. Questo è un lavoro, a dire la verità, un pochino complicato perché bisognerebbe leggere tutti i 36 volumi. Ci sono certamente dei passi che sono un po' più significativi, adesso ne vedremo qualcun altro, insomma andremo avanti qualche altra puntata, poi a un certo punto dovremmo mettere per forza punto perché sennò si andremo avanti a tempo indeterminato, insomma. E' bene poi cominciare a indirizzarci verso la fine del ciclo di Catechesi, speriamo verso l'inizio della vita nella Divina Volontà per più di qualcuno di noi. Ecco, io vorrei anzitutto prima di cominciare la puntata di oggi ricordare una cosa molto importante, oltre che molto bella. La vita nella Divina Volontà è un cammino, non è una cosa di un attimo, capite? Non è un... è un cammino. Ci sono tanti cammini oggi, anche cammini ecclesiali, cammini di fede, cammini nella Chiesa, approvati, riconosciuti, tutto quello che noi vogliamo. La via della Divina Volontà, a mio modestissimo avviso, è un cammino. Lo ha fatto Luisa Piccarreta prima di noi, cioè si vede in alcune parti degli iscritti come Gesù ricorda a un certo punto dice guarda io ti ho preparato, ti ho formato, ti ho fatto fare un discorso graduale, no? Per entrare piano piano, perché Luisa ha vissuto tutte le tappe di questo cammino, no? Per chi ha letto un pochino di brani di grandi dottori, grandi santi, è una cosa mia personale, queste sono considerazioni mie personali, però io ritengo che il cammino della Divina Volontà sia un po' modellato sulle sette stanze del castello interiore. Quindi il cammino verso la perfezione dell'unione con Dio che proponeva, che insegnava Santa Teresa Davila sulla base della sua personale esperienza e nelle opere scritte da lui e il suo padre spirituale, nonché amico San Giovanni della Croce. Cioè, anzitutto bisogna volerci entrare, è quello che Santa Teresa Davila dice, del cammino di santità vale cento volte tanto di più per la Divina Volontà. Cioè, Santa Teresa dice, come facciamo a percorrere il cammino che ci porta all'unione con Dio, che poi è il cammino della santità e c'è un pochino di fervore spirituale, stai tutto casato e poi tra un mese è finita la benzina e ti saluto, torniamo alla vita di prima. No! Tu hai intenzione di fare un cammino di santificazione autentico. Ci vogliono? Devi essere umile? No! Devi averci tanta fede? No! Devi avere tanta carità? No! Devi avere un'umiltà? No! Cosa bisogna avere? Ecco, due cose. Uno, volontà ferma, dice lei, è risoluta di intraprendere questo cammino. Volontà ferma e risoluta vuol dire non è che ma sì, adesso vediamo qua, oppure ma sì, ma ci proviamo, perché una mezza volontà o una velleità o una debole volontà non ti portano da nessuna parte. La volontà deve essere d'acciaio, granitica. Ok? Uno. Due, la seconda cosa, la ferma intenzione che una volta che ho deciso che si parte e sono partito, non ci si ferma, quindi non si torna indietro. Qualunque cosa accada, qualunque difficoltà si incontri, qualunque, dette in altre parole, costanza e perseveranza. Voi sapete che la costanza, dice Sant'Ommaso, è quella forma della fortezza che permette il prolungamento dello sforzo nonostante la fatica, cioè, che è una cosa difficile. Invece la perseveranza è quella parte della fortezza che consente di andare avanti nonostante il logoramento del tempo, cioè, ci vuoi tempo, ci vuoi. Se per diventare santo ci vuole un sacco di tempo, cioè, per entrare bene nel regno della dina volontà, ma se ne vorrà di più o di meno. Quanto tempo ci ha messo Luisa? Luisa ci ha messo tanto tempo, tantissimo. Anni. Cioè, attenzione, Luisa, nei primi volumi passa il tempo delle terribili tentazioni del demonio che dura circa un anno e mezzo, stiamo per andare con Santa Teresa, stiamo già nel periodo, insomma, della notte dello spirito quasi, e Gesù gli celebra il matrimonio mistico, nei primissimi volumi, capito? Il matrimonio mistico, prima in privato e poi in pubblico. E ancora stavamo lontani anni luce della divina volontà, e questa era ancora la preparazione, poi l'offerta come vittima, poi dopo molti, adesso non voglio scoraggiare le persone, dice, eh, se prima bisogna fare il matrimonio mistico non c'entriamo. Non è questo. Però, attenzione, che il cammino della divina volontà è un cammino. Ci vuole sforzo, quindi costanza e perseveranza, oltre che volontà ferma e risoluta. Se no, quindi quando dice Gesù basta volerlo e tutto è fatto, basta volerlo e tutto è fatto, va inteso in questo senso. Allora sì, ecco, in cosa si applica la nostra, allora, nella lettura, nella meditazione, nel imparare a interagire con la divina volontà, nell'interrogarsi, nel guardare come Dio opera, come Dio agisce, nel fondersi con la divina volontà, nel fare gli atti, nel fare i giri, nell'imparare gli stili con cui Dio agisce, nell'esercizio delle virtù, nella brava, cioè, capito? È un complesso di cose. Spero che sia chiaro, cioè, queste catechesi hanno voluto fare, come dire, una presentazione sistematica di questo, cercando anche di mostrare gli aspetti particolari, ecco, che Gesù ha rivelato a Luise, che sono però tutti quanti implicitamente contenuti nel deposito rivelato, non c'è niente di nuovo, d'accordo? Strettamente parlando, c'è soltanto un'esplicazione, un tirare fuori tutte le estreme conseguenze, oggi vedremo una parte del Padre Nostro e vedremo com'è perfettamente radicata la saga scrittura, tra l'altro, di ciò che già c'era. Però, portato, è giunto il momento in cui i veli vengano tolti e si capisca bene. Ecco, questo è il punto. Quindi, siamo modellati sull'orizzonte del Castello Interiore. Cosa dice Santa Teresa del Castello Interiore? Che fino alla quarta, cioè, la quarta di Mora, o la quarta stanza, che è l'area di transizione. Perché nella quarta stanza si giunge alla cosiddetta orazione di raccoglimento e all'unione semplice con Dio, che è già uno stato molto elevato, d'accordo? è il massimo a cui la natura umana possa pervenire con il suo impegno, con la sua costanza, con la sua perseveranza, con la sua ferma risoluzione, sostenuta e coadiguale dalla grazia. Andare oltre non è più cosa che funziona nell'ordinario, ma ci vogliono degli input straordinari della grazia. Cioè, cose che Dio fa in te senza di te. Si entra nella sfera propriamente mistica. Questo va con l'orazione di quiete, l'unione, il fidanzamento spirituale e il matrimonio mistico, che sono le ultime stanze. Allora, cosa significa? Significa che dopo un bel cammino, quanto dura questo cammino? Non lo sappiamo. Però, come, cioè, qui è chiaro che queste catechesi sono un ciclo di catechesi sistematiche, no? Poi, qui si fa la meditazione tutti i giorni sulla Divina Volontà, se uno vuole impegnarsi bene in questo cammino. Liberissimi di non farlo, eh? Quindi, cioè, questa è una cosa completamente libera, spontanea. Leggevo poco fa un testo molto, molto, molto bello. Cioè, lo posso citare, perché l'ho letto qualche, a titolo personale, qualche istante fa. Sentite, no? Il mio abbandono nel voler divino, questo non c'entra niente con quello di oggi. Sono proprio tre righe, però, per far comprendere come, cioè, le cose Dio ama che le facciamo liberamente, eh? Non ci obbliga nessuno, non ci stanno leggi, decreti, per carità, eh? Scrive Luisa, 10 agosto 1931, questo volume 29, siamo... dopo volevo dire anche un'altra cosa, no? Il mio abbandono nel voler divino continua. Sento la sua forza rapitrice che dolcemente, sentite bene il termine, si impone sopra di me, ma senza sforzarmi, perché le cose forzate non gli piacciono. Questo ricordiamolo bene. Non sono per esso, sono robe che non gli appartengono. Mi piace tantissimo questo, questo, questo linguaggio. Quindi, capite? Non ci sta nessun tipo di obbligo di nessun genere. Ti piace? Ti interessa? La ritiene una cosa bella? Ti senti portato? Ti senti chiamato? Vai! Non ti interessa? Non ti sembra così? Non per carità! Capite? Molte sono le vie. Cioè, capite? Cioè, nella Santa Chiesa oggi ci sono tantissime porte, tantissime vie, ci sono cammini antichi come l'azione cattolica, cammini più recenti, movimenti carismatici, movimenti di nuova generazione, nuova congregazione. Uff, tante, dice, qual è il mio cammino? Alcuno si chiede. Quello che il cuore ti detta essere il tuo cammino. Troppo tira nessuno. E quello dove vedi che percorrendolo escono fuori i frutti di santità, perché se i frutti di santità non escono fuori, o quello non è il tuo cammino o lo stai facendo male. Chiusa parentesi. Ora, nel cammino della divina volontà, questo lui se l'ha avuto. Quindi c'è una fase ordinaria che può durare anche tutta la vita e può darsi che molte persone neanche arrivino al vertice della fase ordinaria. Cioè non arrivino ad una vera unione e fusione ordinaria con la divina volontà. Non è affatto detto. E nessuno può essere così presuntuoso da presumerlo. Capite? Voi sapete che la Chiesa insegna, il concilio di Trento, che io non posso essere sicuro nemmeno di stare in grazia di Dio. Non vi scandalizzate questo. C'è il famoso canone tridentino, l'ho detto tante volte anche durante le domedie. Cioè, tu hai fatto la confessione generale, sì, hai confessato tutti i peccati che ti ricordi, sì, sei pentito, sì, non li fai più, sì, sei in grazia di Dio. Speriamo, dobbiamo rispondere sempre speriamo. Capito? Certo, sperandolo, se spero di stare in grazia di Dio a queste condizioni posso accostarmi alla comunione. Certo, capito? Ma la sicurezza assoluta non ce la possiamo avere. A meno che non venga un angelo dal cielo a dirti, figliolo mio, stai tranquillo che stai in grazia di Dio. Ok? Lo possiamo sapere. Figuriamoci se uno può sapere con certezza che sta nel regno della divina volontà. Capite? quindi dico queste cose chiaramente perché ho le mie buone motivazioni evidentemente per dire, specialmente in una catechesi pubblica, no? Quindi calma, tranquilli, lavoriamo, capite? Non fa niente, non fa niente sapere dove stiamo. L'importante è muoverci in queste direzioni. Ora però anche nel cammino della divina volontà, attenzione, c'è una fase che dipende dal cielo. È certo che Luisa a un certo punto ha ricevuto il dono della divina volontà. E se ricevi il dono della divina volontà, chiaramente la divina volontà stessa, ma dopo che tu hai fatto tutto il percorso perché il dono non si riceve per direttissima, non c'è una scorciatoia, capito? Perché prima passi per le vie ordinarie e poi se Dio vuole ti eleverà ad altro, ti porta in uno stato dove diventa veramente tutto quanto più profondo, più bello, più facile, più abituale. D'accordo? Che dipende però questo qui dall'azione straordinaria della grazia. Questa è la prima cosa che volevo dire. Quindi la distinzione tra la fase ordinaria e la fase che dipende dal dono di Dio. Il fatto che questo è un cammino che se uno sceglie di percorrerlo, chiaramente deve percorrerlo seriamente. D'accordo? Io sconsiglio, anche se uno è libero arbitrio, libera cittadinanza, di impelagare la propria vita interiore in 4.000 cose. D'accordo? Perché questa è esperienza di vita, nel senso che se uno si impelaga in 4.000 cose non fa bene nessuna di esse. Quindi è bene fare ciascuno nel proprio cuore, nell'esercizio della libertà, delle scelte di vita significative. Io da quando ho incontrato questo mondo ho incontrato qualche cosa che prima non conoscevo e quindi ho fatto le mie considerazioni, le mie conseguenze che sono però cose del tutto personali e che possono essere condivise oppure non condivise né imposte a nessuno per nessun motivo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, la lettura degli scritti e la meditazione anche degli scritti, perché gli scritti vanno sia letti che poi anche meditati, perché la lettura non basta, a parte il fatto che la lettura, la rilettura, la rilettura, e vanno anche fatti con un certo ordine, perché gli scritti di Luisa, io adesso comincio a conoscere sempre un po' meglio, sembrano modellati tipo, se perdoni la metafora però è così, tipo il nostro ITA scolastico, d'accordo? C'è stata la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore, o ai tempi miei si chiamava così, adesso non so più come si chiamano, me le chiamano primarie, secondarie, non ci capisco niente, quindi abbiate pietà perché io sono rimasto, comincio ad essere vecchierello, ho la mia bella età e ho i tempi miei si chiamavano così. Poi c'è l'università e poi c'è il dottorato, ok? Per esempio gli ultimi volumi, diciamo dal 30 in poi, e quello è il dottorato quello lì, cioè lì veramente Gesù fa dei discorsi che sono veramente tanta tanta roba, però stargli dietro non è cosa leggera, ecco, i primi volumi sono la portata di tutti, perché i primi volumi sono la preparazione, il ciclo di meditazione quotidiana che sto facendo adesso si intitola come ci si prepara a vivere nel divino voluto, perché nei primi volumi Gesù parla un po' della sua volontà, ma non sta ancora dentro il mondo pienamente esplicitato della divina volontà, no? Però la sta forgiando, quindi che significa che se tu non mediti bene i primi volumi, non riuscirai lavorandoci in te ad avere quelle disposizioni interiori fondamentali, la meditazione di stamattina, l'umiltà e l'annientamento di sé, sono due cose imprescindibili per entrare nel rendito di nivolese, se non ci stanno non ci entrerai mai, te lo scordi proprio, ok? Ecco, quindi i primi volumi, i primi dieci volumi diciamo, forse sono la scuola dell'obbligo, ok? Dal 10 al 20 è la scuola superiore, dal 20 al 30 è la università, mo' sto facendo un po' di, sparandole un po', dal 30 è un po' il dottorato, ok? Ecco, quindi si può, ci sono poi in giro un sacco di materiali, dico queste cose perché la gente poi mi chiede, mi fanno le mail, così, ecco facciamo questa introduzione, in giro restano un sacco di compilazioni, Adamo, la Chiesa negli scritti di Luisa, ci stanno la Quaresima, la Risurrezione, nella Pentecoste, ci sono state le persone, alcuni in particolare, penso per esempio a Don Pablo Martin, che è un grande esperto, Martin credo che si chiama, spero di sì, che è un grande esperto, ridi una volontà, che ha fatto diverse raccolte, utilissime, ha scritto anche un sacco di preghiere, se lo sa tutto, d'accordo? Però a mio avviso è anche importante a un certo punto prendere gli scritti e dargli una lettura sistematica e continua, dal primo all'ultimo, d'accordo? in modo tale che uno abbia anche un'idea del percorso che ha fatto Luisa, quindi oltre a conoscere qualcosa ovviamente della sua vita. Questo volevo dire oggi come introduzione, adesso ci introduciamo al tema odierno, che è 2 maggio 1923, volume 15. Ecco, allora, leggo direttamente così andiamo a sorpresa e capiremo subito facilmente l'oggetto di questo scritto perché è abbastanza evidente. Allora, la mia povera mente me la sentivo come sperduta nell'immensità dell'eterno volere ed il mio dolce Gesù, ritornando al suo dire sulla santissima volontà di Dio, mi ha detto, vedete che qui stiamo nel volume quindicesimo, quindi qui si comincia a parlare bene della divina volontà, quindi stiamo alle scuole superiori, ok? Figlia mia, o come armonizzano bene i tuoi atti fatti nel mio volere? Atti fatti nel mio volere, già questo è un linguaggio, vi rimando alle catechesi precedenti, tecnico no, atto fatto nel mio volere, adesso a questo punto, chi ha seguito tutte le 33 catechesi precedenti, questa 34esima puntata, quando sente dire atto fatto nel mio volere, deve capire che significa, quindi non lo sto a ripetere, armonizzano con i miei, con quelli della mia diletta mamma e l'uno scomparisce nell'altro e formano uno solo, sembra il cielo in terra e la terra in cielo, vedete qua già si comincia a sentire qualcosa del padre nostro, no? Sì, ti in cielo e ti in terra, è l'eco dell'uno con la U maiuscola nei tre, con la T maiuscola, e dei tre in uno della Trinità Sacrosanta. Oh, come risuona dolce al nostro udito, come ci rapisce, ma tanto da rapire la nostra volontà dal cielo in terra. E quando il mio fiat voluntas tua avrà il suo compimento come in cielo, così in terra, allora verrà il pieno compimento della seconda parte del Pater Noster, cioè, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io dicevo, Padre nostro, a nome di tutti, tre specie di pane ogni giorno vi chiedo, tre specie di pane. Il pane della tua volontà. Quindi la prima cosa che chiediamo al Padre nostro, il pane della tua volontà. Attenzione. Anzi, più che pane. Perché se il pane è necessario due o tre volte al giorno, o in accidente siamo fortunati, perché generalmente si mangia tre volte al giorno, non tutti hanno questa grazia che noi abbiamo e che ti dobbiamo ringraziare. Invece questo è necessario ogni momento, in tutte le circostanze. Anzi, deve essere non solo pane, ma come aria balsamica che porta alla vita la circolazione della vita divina nella creatura. Padre, se non è dato questo pane della tua volontà, attenzione, eh, a questo passaggio. Non potrò mai ricevere tutti i frutti della mia vita sacramentale, che è il secondo pane che tutti i giorni ti chiediamo. Numero due. Oh, come si trova male la mia vita sacramentale? Perché il pane della tua volontà non li alimenta, anzi, trova il pane corrotto della volontà umana. Adesso sentite le parole che usa Gesù. Sono le sue, eh? Non sono le mie. Leggetelo scritto. Oh, come mi fa schifo il pane della volontà umana, corrotto. Oh, come lo rifuggo. E sebbene vado a loro, i frutti, i beni, gli effetti, la santità, non posso darli. Perché non trovo il pane nostro. E se qualche cosa do, è in piccola proporzione. A seconda delle loro disposizioni, ma non tutti i beni che contengo. E la mia vita sacramentale aspetta paziente che l'uomo prenda il pane della volontà suprema per poter dare tutto il bene della mia vita sacramentale. Prima, sosta. Avete visto quando fanno i pit stop nelle corse automobilistiche? Qui sosta obbligatissima. Gesù sta dicendo delle cose importantissime. Allora, che il primo pane che si chiede nel Padre Nostro sia la divina volontà non è affatto una cosa di cui stupirsi né meravigliarsi. Perché se uno legge con attenzione il Santo Vangelo secondo Giovanni, troverà al termine del discorso di Gesù con la Samaritana, che generalmente, tra l'altro, si legge in alcuni cicli del tempo di Quaresima, non quest'anno che è l'anno B, troverà che, terminato il discorso con la Samaritana, i discepoli erano andati in città a comprare il pane. Tornano da Gesù e gli dicono da B, mangia! E lui risponde ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Interessante questa frase, no? questi cominciano questo c'è la classica il classico stile del Vangelo di San Giovanni dove c'è sempre Gesù che sta su un piano soprannaturale e questi che stanno sul piano appunto della volontà umana. Allora Gesù dice ho da mangiare un cibo che voi non conosce dice ma cominciano a interrogarsi gli apostoli e dice ma secondo me qualcuno gli ha dato da mangiare ora la samanitana l'avrà invitata a pranzo oppure è uscito qualcuno e gli ha portato un panino cominciano a dare a questa frase di Gesù che voleva subito portarli un po' su una lettura umana avrà già mangiato. Allora Gesù rompe le ducie e dice questa grande parola mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Vedete? Quindi la lettura del Panem nostrum quotidianum danobis odie come la volontà divina in primis è evangelica non è una cosa strana d'accordo che esce fuori dagli scritti di Luisa la prima cosa e attenzione Gesù dice il pane si prende due o tre volte al giorno invece la divina volontà dovremmo dire che è come l'aria perché la si identifica con il pane perché il pane è segno di ciò che è indispensabile alla vita sicuramente gli ascoltatori sono tutti bravi quindi in quaresima faranno qualche digiunetto a pane e acqua ogni tanto almeno non è obbligatorio più secondo le leggi della chiesa se fa soltanto il mercoledì delle cene nel venerdì santo però se qualcuno in quaresima fa un digiuno certamente fa una cosa buona insomma purché non esageri ecco però quando facciamo pane e acqua il pane ce lo mangiamo insomma perché almeno un pochetto di pane tocca mangiare quindi il pane è proprio l'espressione di ciò che è indispensabile alla vita allora la vita della tua anima perché la tua anima sia viva la cosa unica è la divina volontà averla e farla punto la seconda accezione il secondo pane dice se tre specie di pane ti chiedo è l'eucaristia anche questo non è una cosa strana è il prevangelo di San Giovanni io sono il pane vivo disceso dal cielo chi mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane chioderò la mia carne per la vita del mondo se si leggono gli scritti dei santi di molti padri della chiesa adesso non li ricordo quali sono ma insomma è cosa notoria in ambito cattolico ma veramente anticamente quando pregavano dacci oggi il nostro pane quotidiano se tu parlavi con la maggioranza dei cristiani dice che cos'è il padre quotidiano è l'eucaristia d'accordo ecco perché San Pio X ristudiando le fonti all'inizio del XX secolo ripristinò la pratica antica della comunione quotidiana dove possibile e dove si stia in grazia di Dio perché? perché l'eucaristia è per l'anima ciò che il pane è per il corpo però attenzione Gesù dice subito perché oggi con questa benedetta comunione sacramentale che è la cosa più bella che possa succedere cioè non esiste cioè oltre la comunione sacramentale c'è soltanto quella profonda unione con Dio che si realizza ancora più forte poi lo vedremo forse nella rassegna dei passi vi posso anticipare c'è un passo in cui Gesù spiega che se uno fa bene la comunione perché vedete qui dice produce frutti in base alle loro disposizioni in ogni caso la presenza di Gesù quindi il contatto l'unione con Gesù è limitato nel tempo perché dura circa un quarto d'ora poi cessa la presenza di Gesù e si perde questa unione intima con Dio si rimane in grazia ma non c'è più quello stato di unione profonda che c'è quando Gesù è una cosa sola con noi no? ma se tu stai nella divina volontà l'unione con Dio tu ce l'hai H24 non lo perdi ma manco nel sonno la perdi quindi fermo restando la centralità e la grandezza e l'indispensabilità dell'eucaristia che è la cosa più bella più grande e più importante che esiste nella Chiesa tuttavia l'unione con la divina volontà è ciò a cui l'eucaristia stessa è ordinata ci spiega qui Gesù cioè come si trova male la mia vita sacramentale perché il pane della tua volontà si rivolge al padre la volontà non la alimenta anzi trova il pane corrotto della volontà umana allora qui c'è tutto quanto il tema non soltanto delle comunioni sacrileche perché voi sapete che la volontà umana si divide in due c'è una volontà umana peccaminosa che si distacca gravemente peccaminosa che è proprio l'antidivina volontà cioè quella lievemente peccaminosa che è sempre in opposizione alla divina volontà che guasta anche se non corrompe del tutto e poi c'è l'umana volontà che pur senza scendere nel peccato però vive terra terra si accontenta di poco fa un sacco di imperfezioni tende alla debilezza ci sono vari sta imprigionata in tante piccole passioni passioncelle vizi vizietti vari insomma che danno una vita grigia una vita mediocre capito ecco quando l'eucaristia cade su un terreno di questo genere i frutti che produce sono pochi sono pochini pochi pochi allora dobbiamo metterci bene in testo una cosa cioè la comunione sacramentale che è la cosa più importante richiede le dovute disposizioni Gesù dice se qualche cosa do qualche cosa è in piccola proporzione e a seconda delle loro disposizioni a seconda delle loro disposizioni oggi sapete le commedie che si fanno con queste comunioni chi la può fare chi la può fare allora se una persona sta in stato di peccato mortale può fare tutte le comunioni che vuole capite cioè io a volte dico cioè qui si pensa a volte guardate veramente io dico qualcuno pensa che la comunione come dire sia una magia come quelli che vanno sempre a cercare a destra e a sinistra in maniera maniacale perdonatevi insomma io ci credo a tante cose però c'è sempre un equilibrio è sempre una misura le benedizioni dammi la benedizione che c'ho il problema c'ho questo dico si te la do la benedizione dico però la vita interiore non è che basta una benedizione che ti risolano tutti i problemi della vita tua cioè per vivere in amicizia con Dio per avere una vita perfettamente benedetta non basta che un preto ti mette le mani in testa e ti fa un segno di croce che è un gesto importantissimo efficace per carità ma non è una stregoneria quindi te risolvi tutti i problemi della vita tua affatto devi pregare devi sforzare ad osservare i comandamenti devi andare a messa devi confessare la dir rosario c'è stanno tante cose che concorrono a formare una vita di grazia che ti attira le benedizioni di Dio chi lo sa che mi è successo sono vent'anni che non vado in chiesa ma devo trovare un prete che mi benedice ma che certo che qualcosa di buono te lo farà ma che fa oppure una persona che non so vent'anni che non va in chiesa entra in chiesa e dice mi so sentito che mi dovevo fare la comunione come dice ora sono entrato in chiesa dopo vent'anni ho fatto questo grande favore al signore ora andiamo a fargli pure il favore che faccio la comunione cioè quella comunione lì per quanto poverino molte volte una persona che fa sta cosa cioè non sa quello che fa non è consapevole ma quella non mai bisognerebbe una cosa del genere per nessun motivo perché tu ti sei preso il vereno non hai preso la comunione capito perché la comunione allora quando non stiamo in grazia che c'è capito cioè oggi a mio avviso l'ho detto tante volte si fa la comunione con un po' troppo leggerezza ma non è che il nostro c'è attenzione nostro signore la cosa più bella che la cosa che più desidera lo ha detto tante volte è unirsi con le nostre anime quindi non è che lui non bisogna fare la comunione allora devo pensare che Dio è cattivo no Dio non è cattivo non punisce non è questo il punto d'accordo ma l'effetto della comunione non si può realizzare se nella tua anima c'è una situazione di peccato non si può per cui non fare la comunione non è che è una punizione non lo posso fare non sta in condizione capito è come se tu dai a un come si chiama a un a un diabetico in certe condizioni io me lo so lo glucosio lo ammazzi perché lo zucchero non è buono sì d'accordo ma un diabetico i dolci devi stare attento a mangiarseli io me lo posso mangiare al massimo che succede metto 100 grammi il diabetico more se si mangia un dolce quando non se lo può mangiare perché perché non è buono il dolce no perché è diabetico capito eh per cui anche nel tempo di Guaresima no cioè San Paolo scrive nelle sue lettere prima di accostarvi alla santa mensa esaminatevi attentamente ciascuno prima esamini se stessi e poi si accosti perché chi mangia e beve indegnamente nel corpo del Signore mangia e beve la sua condanna lo dice San Paolo lo dice capite è parola di Dio nessuno può cambiare queste cose qui capite e non si può essere faciloni o leggeri anche quando stiamo in grazia di Dio e qui c'è il secondo punto perché essere in grazia di Dio è la prima condizione secondo il sano catechismo per fare una buona comunione attenzione essere in grazia di Dio nel senso che dicevamo prima speriamo di starci cioè non sono cosciente di aver commesso nessun peccato mortale se l'ho fatto mi sono confessato essendo pentito ma poi bisogna anche pensare e attentamente a chi si va a ricevere prepararsi adeguatamente in maniera remota e prossima diciamo maestri di spirito e ringraziare adeguatamente soprattutto in maniera prossima queste cose bisogna mettersene in testa ma io non è che voglio fare il parroco pedante come dire rompiscatole passatevi il termine oh quanto è pesante questo che muove fa un tassà commedia bisogna fare io vi ho sta comunione e poi me ne vado ritorniamo al discorso di prima cosa dice il volere divino io non forzo nessuno può fare così vedrai quanti bei frutti che trarrai da questa comunione cioè capito come diceva Santa Bernadette il mio compito è dirle le cose con tanta umiltà spero e con tanto amore se ci riesco insomma poi se uno lo fa diversamente capite ma a me Don Leonardo che me ne importa se una persona che va a fare la comunione viene ammessa dieci minuti prima si prepara sta raccolta diceva Gesù in un certo modo finita la messa si mette in ginocchio fa ringraziamento e aspetta prima di uscire dalla chiesa e prima di venire in chiesa fa la comunione remota la preparazione remota cioè cerca di fare una vita possibilmente santa lontana dal peccato se si accorge che sta a fare qualcosa di male smette evita di chiacchierà tutte le questioni che almeno ti garantiscono una comunione decente se no ma tutti sti santi con tutte ste comunioni che si fanno oggi ma dove stanno capito dove stanno tutti sti grandi santi la comunione fa santi quelli che ci vogliono diventare veramente e quindi quelli che si accostano a questo sacramento con le debite disposizioni come dice Gesù e la migliore disposizione qual è qui dice se una persona vuole entrare nel regno della divina volontà sul serio questo dovrebbe fare delle grandi comunioni grandi comunioni che non significa siccome voglio entrare nel regno della divina volontà posso arrivare a messa dieci minuti dopo capito posso mentre sto a fare la vita e fare la comunione posso chiacchierare con il vicino quando torno a posto posso mettermi seduto e guardare l'orologio e appena fatta la benedizione scappo come spiriti Gonzales tanto voglio entrare nella divina volontà la comunione quindi è una grande comunione che mi ha affetto comunque no capito voglio entrare nella divina volontà è una disposizione interiore e ottimale ma che non cancella le cose che comunque vanno vissute riprendo Gesù prosegue vedi dunque che il sacramento dell'eucaristia non solo ma tutti i sacramenti lasciati alla mia chiesa e istituiti da me daranno tutti i frutti che contengono e pieno compimento quando il pane nostro il pane nostro Gesù lo chiama così cioè la volontà di Dio si farà come in cielo così in terra matrimoni il sacramento del matrimonio come mai che i matrimoni non sono santi alcuni matrimoni non sono santi e vanno a finire a schifio perché non si fa la divina volontà perché alcuni sacerdoti non sono tanto santi speriamo di poter dire solo così e a volte sembrano non troppo all'altezza del loro ministero e preghiamo sempre per loro senza giudicare fiat volontas tua sicut in cielo e in terra perché i gresimati fanno la gresima il giorno dopo spariscono dalla parrocchia e non li vede più nessuno dov'è la divina volontà d'accordo dov'è quindi la disposizione del voler entrare del voler fondersi cioè del voler arrivare al massimo possibile ma perché scusate i sacramenti a che servono che sono una cosa importantissima cioè io ci ho fatto tantissime catechesi cioè noi possiamo stapparla quanto ci pare ora ci stanno alcuni pastoralisti che dicono che il modello tridentino della chiesa è entrato in crisi va bene quindi inventiamoci forme nuove va tutto bene facciamo uscire la chiesa come dice il papa benissimo usciamo ma alla fine tutte quante queste forme con cui noi per forza dobbiamo cercare di interfacciarsi andiamo su internet a predicare va bene d'accordo però se uno sente una catechesi su internet cioè sentire una catechesi su internet ti stimola alla conversione ma se tu vuoi sigillare la tua conversione per tornare a confessare di andare a messi cioè tutta la vita della chiesa come insegna il concilio vaticano secondo come insegna la sacrosantum concitium come insegna la lumen gentium a cosa tende tende ai sacramenti non come fini ma come mezzi per farti diventare santo perché i sacramenti sono gli strumenti di santificazione e se la volontà di Dio come abbiamo visto la volta scorsa è la santità delle santità qual è il terreno migliore che troveranno i sacramenti per strigionare tutti gli effetti che hanno un'anima che voglia vivere è la divina volontà ma questo è un sillogismo facilissimo capito allora i sacramenti funzionano bene quando trovano un'anima che poi diventa santa cioè capite io dico sempre ai miei fedeli il signore mi voglia perdonare e voglia avere in pietà e misericordia se questo è sbagliato ma io veramente a volte mi sento quasi mortificato dico guardate se io ti incontro non giro per paese io non te lo dico perché non viene messa la domenica ho detto l'ultima catechesi per gli adulti perché dire una cosa di questo genere è un'offesa a me e a te perché se viene messa la domenica non ti mette a pensare che fai un favore a me d'accordo come qualcuno lo sapete che in qualche ambiente in qualche in qualche posto in qualche comunità dice andiamo ogni tanto a messa così il parroco ci vede e che ti importa che il parroco ti vede che tu ti dici andare a messa per fare la figura davanti al parroco ma non ti manca andare a messa per fare contento al Padre Eterno vabbè però almeno a Pasqua e a Natale bisogna andarci perché fa un favore al Padre Eterno ben inteso intendetemi bene quello che sto dicendo meglio andare a messa almeno a Natale a Pasqua magari pensando pure di fare un favore al Padre Eterno piuttosto di non andarci per niente cioè il lumicino dalla fiamma smorta dice Gesù dice la Sacra Scrittura non va spento capite però il senso no ma questa è proprio una cosa che non va cioè io invito anche gli ascoltatori a sentire la catechesi ma non per la catechesi io ho citato la Misterium Fidei di Paolo VI prossimo santo ho fatto una lettura di questa cosa se uno capisce e si può capire qualcosa di quello che è la messa e anche di che cos'è la presenza reale nelle Eucaristie quindi che succede più o meno facciamo la comunione ma uno che non fa messa non fa mai la comunione se ci crede a quelle cose non sta bene d'accordo secondo me non sta bene cioè mio parerissimo personale è opinabilissimo ma se ci credi veramente non stai bene quindi se tu non ci vai è perché non ci credi e se non ci credi è perché forse non ti sei informato ma è tuo dovere però informarti è tuo dovere informarti cioè un uomo una donna la vita la devi vivere in prima persona alcune domande se le devi fare che c'è sta a fare a sta parrocchia dove c'è ancora un prete dentro un paese sperduto dove mi trovo io adesso se stai in una metropoli che ci stanno a fare ancora nelle metropoli che abbiamo internet ci abbiamo la playstation non ne so ci abbiamo gli iphone ci abbiamo questo e quell'altro ancora stanno le chiese che sono duemila anni che ci stanno in giro alcune l'hanno trasformata in museo come mai che ancora qualcuna funziona e ci va pure qualcuno cioè questa è una domanda che tu te la devi porre e devi cercare delle risposte adeguate capito ecco Dio non forza nessuno allora dopo chiedevo il terzo pane quindi il pane materiale cioè il pane materiale che è mi si perdoni almeno apparentemente a quello che si vede l'occupazione unica e principale della totalità delle persone della quasi totalità delle persone mettiamo sempre cerchiamo di usare un linguaggio appropriato è l'ultima cosa è l'ultima Gesù cosa dice nell'Evangelo procuratevi non il cibo che perisce ma quello che non perisce e che il figlio dell'uomo vi darà perché il cibo che perisce è sotto sigillo del Padre nostro dacci oggi il nostro pane quotidiano ed è sotto promessa del Vangelo non angustiatevi per la vostra vita di quello ma di quello che vedete non mi si venga a dire che c'è stata gente che muore di fame perché l'ho già detto tante volte non so se una volta ho fatto anche vedere la foto che c'ho la gente muore di fame non perché Dio non ottempera quanto promesso nel Padre nostro perché Dio come sempre fa non è che ottempera Dio strafa la gente muore di fame perché nel mondo si sprecano ogni anno una miriade vi dico adesso i numeri precisi di tonnellate di cibo che sono 1,3 miliardi di tonnellate di cibo ancora perfettamente commestibile dati forniti dalla FAO letti con i miei occhi durante una mostra a cui portai i miei ragazzi a Roma 1,3 miliardi di tonnellate di cibo ancora perfettamente commestibile in relazione a 805 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo allora 1,3 miliardi di tonnellate di cibo miliardi di tonnellate di cibo rappresenta un terzo della produzione anno mondiale di cibo e con questi sprechi verrebbero sfamate 3 miliardi e 200 milioni di persone cioè 4 volte tanto le persone che muoiono di fame a chi vedrà questa trasmissione in diretta facebook o differita mostro la foto che dà questi numeri ok non sono dati della chiesa cattolica sono dati della FAO quindi il cibo materiale se non c'è non è perché Dio non ha tempi le sue promesse ma è a causa dei nostri peccati e quando buttiamo qualcosa nel secchio tanto perché dice ma io non ho fatto niente di male non ho fatto peccati pensiamo che questo non sia un peccato da confessare secondo me è un peccato non da confessare ma di corsa e io personalmente opinione mia personale non la voglio imporre a nessuno però che sia un peccato veniale ho dei dubbi d'accordo buttare il cibo nel secchio fosse anche in piccola quantità il piatto che ci viene messo davanti deve essere pulito quando lo consegniamo lo ridiamo via d'accordo e anche chi governa le case eccetera devono fare attenzione a dosare bene le cose perché il cibo non si butta o si conserva e si consuma prima che scade si ricicla si rifà nei casi più estremi c'è dagli animali ma buttarlo al secchio è cosa che non si deve fare chiusa parentesi si parla del pane quotidiano però mi sembrava opportuno come potevo dire dacci il nostro pane riprendo in vista che l'uomo dovendo fare la nostra volontà ciò che era nostro era suo ed il padre non doveva dare più il pane della sua volontà il pane della mia vita sacramentale il pane giuraleo della vita naturale a figli illegittimi usurpatori cattivi ma i figli illegittimi buoni che terranno in comunione i beni del padre perciò dicevo darci il nostro padre il nostro pane scusate allora mangeranno il pane benedetto tutto sorriderà loro intorno la terra e il cielo porteranno l'impronta dell'armonia del loro creatore bellissimo no? sono veramente delle considerazioni molto 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 belle salto un pezzo di questo scritto e qui riprendo quindi il tema di oggi quindi la divina volontà è il pane dell'uomo il vero pane dell'uomo e svolge per la nostra per la vita della nostra anima ciò che il pane svolge per la vita del nostro corpo e il pane eucaristico è ordinato come mezzo a fine al perfetto compimento della divina volontà quindi la disposizione ideale per accostarsi alla comunione è quantomeno voler fare in tutto la divina volontà non dico viverci dovremmo essere familiarizzati con la differenza tra il fare e il vivere nella divina volontà ma almeno il farla ecco perché il peccato che è la condizione ostativa antitetica antinomica rispetto alla divina volontà non consente di fare la comunione a meno che non ci sia stato il pentimento e quel peccato non ci sia stato tolto dal sacramento della confession vedete come questi discorsi si inseriscono perfettamente dentro la sagra scrittura dentro il magistero della chiesa dentro gli insegnamenti tradizionali della scetica della spiritualità della mistica capite è bellissimo respirare in questi scritti questo proprio questa area aria di chiesa cattolica d'accordo in tutta quanta la sua bellezza e pienezza allora vuoi tu che la mia volontà scenda sulla terra concludo con questa ultima parte come la redenzione ebbe il suo principio in una vergine questa cosa l'abbiamo già vista la settimana scorsa non mi concepì in tutti gli uomini per redimerli sebbene chiunque vuole entrare nel bene della redenzione e ricevermi ciascuno per sé solo nel sacramento d'accordo quindi la redenzione è il principio da una vergine Gesù non si è concepito in tutti gli uomini ma chiunque vuole può entrare nel bene della redenzione che lui ha posto in essere concependosi in Maria come ricevendo la comunione che è il culmine della vita cristiana così ora la mia volontà di avere il suo principio il possesso la crescita lo svolgimento in una vergine creatura tanta roba quello che si è sentito dire a Luisa e poi attenzione chi si disponga e voglia entrerà nei beni che il vivere nella mia volontà contiene attenzione alle parole fondamentali chi si disponga e voglia la premessa che ho fatto nella prima parte del discorso di oggi cosa vuol dire disporsi e volerlo non è semplicemente dire ah lo voglio no d'accordo è quello che ho spiegato all'inizio della puntata odierna se non fossi stato concepito però nella mia diletta mamma mai la redenzione sarebbe avvenuta così se non opera il prodigio di far vivere un animo nella mia suprema volontà e questa è stata Luisa Piccarreta il Fias volontastua come in cielo così in terra non avrà luogo nelle umane generazioni Luisa è vissuta è campata la divina volontà in lei ha vissuto questa parte è stata realizzata adesso e questo è il senso di queste catechesi ci manca che coloro che desiderano sinceramente vivere nel divino volere lo vogliono e si dispongono entrino in questo regno questo è il senso di questo bellissimo scritto che però ci ricorda il radicamento del regno della divina volontà nel Padre nostro non soltanto nella nella classica espressione del Fiat santificante ormai lo dovremmo sapere tutti a memoria il Fiat volontastuosi ma anche nel pane nostro un quotidiano da novi sodie perché il primo pane che si chiede è il pane della divina volontà a cui il sacramento dell'eucaristia è ordinato e in cui trova l'humus fondamentale per poter sprigionare tutti i suoi effetti di grazia evidentemente necessita anche il pane materiale perché insomma dovendo vivere la vita terrena a meno che il Signore non ci faccia il miracolo di vivere soltanto l'eucaristia come alcuni santi non è possibile anche senza il pane materiale a qualche santo l'ha fatto non è necessario farlo quindi certamente anche il pane materiale facendo attenzione a considerarlo come grazia di Dio a non far negativo uso a non sprecarlo casomai a condividerlo con chi è privo del necessario e non a mettere il carico da undici in questi un miliardo e trecento milioni di tonnellate di cibo buttato che stanno tutti quanti sulla nostra coscienza e che sono macchiati mi dispiace dire questa cosa del sangue e delle grida di tanti poveri fratelli e sorelle come tante volte ci ricorda anche il Papa sono privi del necessario non perché Dio non è buono e provvidente ma perché noi siamo egoisti e cattivelli e questo certamente non è cosa gradita al Signore appuntamento come sempre la prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria appuntamento Grazie a tutti